Il cristianesimo è fondato storicamente, migliaia infatti sono i manoscritti che sono giunti sino a noi riguardanti i Vangeli e le lettere apostoliche, le quali registrano un evento dei fatti concreti, un compimento nella storia dell'umanità, ossia l'incarnazione del Verbo di Dio, il Messia promesso, Gesù Cristo, il culmine della storia stessa della salvenza. Le dottrine cristiane, nate dalla predicazione di Gesù, sono quindi una sapienza venuta dall'alto, proveniente dal cielo. La nascita, la vita, i miracoli, la morte e la risurrezione con la gloriosa ascensione al cielo alla destra di Dio, del Signore Gesù, sono un fatto storico e non un frutto di fantasia, a cui non resta che aderire e accettare con profonda gratitudine o inesorabilmente, disgraziatamente, rifiutare a proprio danno.